Buon salve, bentornati su No Mamamazzo, sono molto felice di aggiornare la mia playlist film in uscita perché ragazzi, come tutti sappiamo, c'è stata una pandemia, c'è stato un lockdown e quindi erano mesi che non si poteva andare al cinema, non si poteva andare in una sala cinematografica, anche dopo che è stato sciolto il lockdown, i cinema sono stati chiusi per tantissimo tempo, finalmente la stagione cinematografica ha ricominciato pian pianino a sfornare film che dovevano magari uscire già prima, alcuni si sa sono andati direttamente sulle piattaforme streaming, altri invece hanno voluto uscire al cinema. È il caso di Tenet, ultima fatica di Christopher Nolan con il quale, presumo, la maggior parte di noi ha inaugurato questa nuova era post-covid del cinema. Io sono stato davvero contento di tornare in una sala cinematografica, tutto a norma ovviamente, spazi, distanziamenti, mascherine eccetera, però sono stato molto felice di inaugurare questa nuova era cinematografica, sono stato molto felice di inaugurare questa stagione con Tenet che è comunque un film di qualità, voglio dire Christopher Nolan la maggior parte di noi nerdacci lo conosce per la trilogia del Cavaliere Oscuro, ma ha fatto Interstellar, ha fatto Inception, comunque gli piace un po' giocare anche con la dilatazione temporale e in questo film ha voluto ancora di più toccare l'argomento tempo. A voi Tenet è piaciuto? Lo avete capito? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di condividere il video con tutte le persone che conoscete, che amano Christopher Nolan e di iscrivervi anche agli altri miei social, per esempio Instagram, per esempio il sito Viola dove quasi tutte le sere sto facendo delle live di videoparty e anche un po' di gameplay, così sempre molto nerd, molto nabbo, dove potete trovarmi anche lì e conoscermi meglio anche lì. Vi ricordo sempre che in descrizione vi metto dei link Amazon che possono contribuire a sostenere il mio canale YouTube senza nessuna minima spesa per voi. Solitamente sono acquisti inerenti a quello di cui parlo, quindi saranno probabilmente film di Christopher Nolan acquistabili su Amazon. Allora, come dicevo prima, io sono rimasto molto contento di essere tornato al cinema, piuttosto, purtroppo, questa mia felicità è stata un pochino smorzata dal fatto che l'audio nella sala cinematografica era davvero assordante, in modo fastidioso. Molto probabilmente perché ero in una posizione laterale della sala, non lo so, però l'acustica non era delle migliori. So che Nolan ci tiene particolarmente a usare l'audio nei suoi film, anche per narrare quello che vuole dire anche con la colonna sonora, infatti ho apprezzato anche molto il fatto che la colonna sonora, il main motive, sembrava proprio a rovescio anche quello, però era davvero assordante, disturbava un pochino la fruibilità di quella che è stata la pellicola, di quello che è stato il film. Vado a raccontare un pochino con voi che cos'è Tenet, perché chiunque non l'abbia visto non riesce a capire di cosa parla. Non ammetti che sia uno spettacolo circolare, i racconti d'inizio, per gli bruci il finale! Nolan con Tenet riesce a trovare un nuovo modo di narrare il concetto del viaggio nel tempo. Abbiamo visto, vi dico due esempi molto commerciali, perdonatemi, abbiamo visto il metodo Ritorno al Futuro, abbiamo visto il metodo Avengers Endgame, che è il metodo che tratta delle realtà parallele, quindi se si viaggia nel tempo si crea una nuova realtà e non si va a intaccare la linea temporale da cui si proviene, che è un pochino anche il concetto del viaggio nel tempo di Trunks in Dragon Ball Z. Qui abbiamo un nuovo modo di narrare il viaggio nel tempo, perché non è un viaggio nel tempo, ma è un'inversione. Cosa vuol dire? Adesso lo andiamo a vedere, ma soprattutto, ce n'era davvero bisogno di un nuovo modo di narrare il viaggio nel tempo? Il film dura quasi tre ore, oppure sono due film che durano un'ora e mezza, uno in senso normale e uno in senso inverso? Il film ha una trama abbastanza semplice, narrata però in modo molto complesso. Si parte con una scena d'azione fantastica in un teatro dell'opera, che grida Nolan da tutte le parti, quindi classiche scene super studiate nel minimo dettaglio, con le persone, gli agenti in questo caso della CIA, che sono super equipaggiati, sanno in modo esagerato quello che devono fare al minimo dettaglio. Lì si vede proprio il Batman di Nolan proiettato anche in queste operazioni spionistiche. Questo nostro protagonista fa già parte della CIA, quindi è già super allenato, è già super scaltro, è già super Sherlock Holmes. Una operazione governativa va storta, lui viene ritenuto morto e quindi, come spesso accade in alcuni film, anche in Man in Black banalmente, viene reclutato in un'agenzia ancora più segreta per delle operazioni ancora più a salvataggio dell'intera umanità. Questa agenzia super segreta altro non è che Tenet, Tenet, da cui appunto tra ispirazione dal famoso quadrato del Sator, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, se non sbaglio, l'ho detto a memoria, comunque ve lo metto qua, da questo quadrato del Sator in cui c'è la parola Tenet che si può leggere in tutte le direzioni, cioè dall'alto verso il basso, dall'estra verso sinistra e viceversa, non in diagonale, non è Forza 4, da questa banalissima tavoletta sconosciuta che c'è da tantissimo tempo in alcune zone storiche, hanno tratto questo film come se qualcuno avesse viaggiato a ritroso in senso inverso, quasi fino al punto di incidere questo quadrato del Sator sulle tavolette. Chissà se Nolan voleva dire questo, ma a noi non ci interessa questo, ci interessa che questo film cerca di parlare allo spettatore in un modo totalmente nuovo. Che cos'è l'inversione? Ci fanno capire che ci sono degli oggetti, ma che poi non saranno solo oggetti, saranno anche delle persone che grazie al passaggio attraverso un macchinario possono invertire la propria entropia, quindi all'occhio di chi non è stato invertito pare che si comportino al rovescio, cioè camminano all'indietro, fanno cosa all'indietro, il proiettile da terra cade perché era stato prima lasciato a terra. Tutte queste cose strane non vengono spiegate in modo molto chiaro, come per esempio è stato Interstellar, la cui sospensione dell'incredulità è pari a quello che potremmo capire noi da un reale documentario sul viaggio nello spazio, mentre qui non si sono presi troppo la briga di spiegare cosa volevano spiegare. Hanno semplicemente detto ok, così funziona, non devi ragionarci troppo, devi sentire questa cosa. Non è il lavoro migliore di Christopher Nolan a parer mio. Io ho apprezzato molto di più Interstellar, ho apprezzato molto di più Inception, lascio perdere ovviamente la trilogia del Cavaliere Oscuro che è a parte nel concetto di Nolan. Però ecco, se vogliamo fare un parallelismo, questo Tenet sta alla trilogia Inception, Interstellar, Tenet, come Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno sta alla trilogia del Cavaliere Oscuro, ovvero è il film un po' più debole di Nolan per quanto riguarda il concetto che voleva esprimere sul tempo. Sicuramente ha sfruttato tanto dal punto di vista della regia questo suo concetto, ma il succo è semplice e non ci si affeziona nemmeno troppo alla storia. Non si capisce bene se il tema dell'inversione sia un espediente narrativo per raccontare una bella storia, semplice, una bella storia, oppure se la storia sia l'espediente per portarci alla sospensione dell'incredulità in modo tale da credere all'elemento fantascientifico che in questo caso è l'inversione. Ma in ogni caso, quale che sia l'intento di Nolan, fallisce da questo punto di vista, perché appunto, come ho detto prima, la parte fantascientifica è bella visivamente ma non è spiegata in modo chiaro e dal momento che è fantascienza e non è fantasy, serve un elemento di scienza, di parascienza, di spiegazione, altrimenti non ci coinvolge. Restiamo lì a bocca aperta non avendo capito quello che abbiamo visto, perché lo abbiamo visto. Cioè abbiamo capito perché, ma non ci viene spiegato bene. Dal punto di vista anche della trama, allora la trama è molto lineare, è un film di spionaggio, però è tutto molto veloce, i personaggi vengono lanciati dentro nel pieno dell'azione, sbucano all'improvviso, il personaggio di... il protagonista stesso all'inizio è già super esperto di tutto e ok abbiamo capito che è un pezzo grosso delle azioni sul campo della CIA, però il fatto che sappia già fare tutto innanzitutto ce lo allontana molto come personaggio, cioè non lo sentiamo vicino, non c'è una crescita da questo punto di vista. E poi anche lì è molto strano che questo personaggio, da una semplice parola da Tenet, vada a intrupolarsi da qualche parte, incontrare una scienziata che gli fa vedere appunto questi proiettili invertiti e che da lì, dalla lega dei proiettili, lui riesca a salire da solo il bandolo della matassa, solamente con le sue forze. E' un pochino strano se non ci viene presentato meglio prima il personaggio, invece viene proprio lanciato, o meglio noi veniamo lanciati già a metà dell'azione, a film iniziato, perché c'è questa operazione all'opera. E la cosa che io speravo succedesse è che proprio a livello narrativo, ok, il personaggio viene lanciato così, l'operazione sembra già avviata, ma magari ce la spiegheranno più avanti perché la vedremo a ritroso. Invece questo non succede. Anche gli stessi personaggi, come il personaggio di Robert Pattinson, lui già un pochino di più, o il personaggio dell'attore che ha fatto Kick-Ass, Taylor Johnson, vengono buttati lì, ho detto, ok, vengono buttati lì a metà film, ma magari più avanti nella narrazione viene introdotto il personaggio, dato che è in versione, magari è invertito anche il film, il personaggio non viene introdotto all'inizio, ma alla fine. Questo non è successo, con mia grande delusione. Quindi sicuramente il film è un bel film, ma è un bel film d'azione. Il concetto di Nolan è molto debole rispetto agli altri. Anche la parte emotiva che Nolan mette sempre un pochino tra le righe, come la parte dell'amore in Interstellar, la parte dell'amore per i figli, che ha messo sia in Interstellar sia in Inception, qua è appena accennato, è riferito all'amicizia tra il protagonista e il personaggio di Robert Pattinson, ma appunto anche lì non lo sentiamo tantissimo perché non riusciamo a fare a tempo ad affezionarci ai personaggi. Detto ciò, sarebbe anche bello vedere un sequel di Tenet, o un prequel, dipende dai punti di vista. Quello sarebbe interessante, sarebbe interessante se servisse anche a spiegare meglio il concetto di inversione e magari creare una nuova saga cinematografica tutta su questo concetto. Conclusione finale, comunque film bello, ma credo che in gran parte il successo che può aver avuto, anche l'hype che abbiamo avuto tutti, era dovuto al fatto che era firmato Christopher Nolan. Se l'avesse fatto un regista di serie B, uno sceneggiatore di serie B, un mestierante, non ce lo saremmo cagati di striscio, molto probabilmente. Quindi promosso ma con riserva. Sono stato comunque felice di essere andato al cinema a inaugurare la stagione cinematografica con questo film, però mi aspettavo un pochino meglio. Parliamo sempre di alto livello, però mi aspettavo un pochino meglio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutto questo, scrivetemelo nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci. Ma che cazzo? Ma che cazzo?